L'età delle donne e l'alcol è l'incontro in diretta sulla pagina Facebook Asla Ferrara con la dottoressa Garofani che incontrerà tutti quelli che avranno piacere di ascoltarci il 20 maggio del 2021 alle 17.30. Allora dottoressa Garofani, l'età delle donne e l'alcol cosa ci racconterà? Vi racconterò di qual è il rapporto delle donne con l'alcol. Perché le donne sono diverse dagli uomini, diverse anche nel rapporto col bere, con l'alcol, soprattutto diverse dal punto di vista psicologico e anche fisico. Purtroppo dovrò parlarvi anche di come l'alcol nasconde e distorce, si presenta come una soluzione, invece può diventare un grande problema. Ma perché c'è questo attaccamento? Perché l'alcol è una grande coperta che assopisce e mette da parte e sembra che faccia scomparire tutte le problematiche, tutti i pensieri tristi, tutti i nostri problemi, i drammi e quindi in certi momenti della vita neanche il successo può vincere sulla potenza dell'alcol. E qui vi racconterò anche della storia di due icone della musica che sono diventate purtroppo delle vittime anche di questo. E non hanno potuto veramente tirar fuori tutto il loro talento morendo giovani. Benissimo, queste purtroppo tristi vicende le scopriremo allora il 20 maggio alle ore 17.30 sulla pagina Facebook ASL Ferrara con il racconto e anche la spiegazione di tutte queste motivazioni e tutto quello che ci sta sotto della dottoressa Luisa Garofani. A presto. Grazie.